16 settembre 2014, ore 11.30, con una conferenza stampa affollatissima di giornalisti, il festival della letteratura di viaggio è salpato dal barcone sul Tevere della società romana Nuoto, il cui presidente Dante Mortet è anche il cesellatore del premio Navicella d'Oro. Il grande afflusso della stampa è la dimostrazione dell'ottimo lavoro svolto in questi sette anni dall'ufficio stampa nella persona di Silvia Barbarotta, uno scricciolo di ragazza instancabile, appassionata, professionale e alla capacità dimostrata dal gruppo di lavoro coordinato dall'attenta regia del direttore artistico, il fotografo Antonio Politano, presieduto dal professor Franco Salvatori, della società geografica, primo a credere nel progetto, assieme a Claudio Bocci di Federculture, che ne fu l'ispiratore. In linea col tema del festival, letteratura, viaggio, sogno, i giornalisti hanno partecipato ad una presentazione della manifestazione romanzesca. Dopo aver ascoltato gli interventi, sono stati invitati a salire a bordo della barca Livia Drusilla per essere trasportati nell'avventura di una navigazione sul Tevere, infine rifocillati con un buffet a base di prodotti a chilometro zero, offerto da campagna amica di Codiretti. Nato a Roma nel 2008 e promosso dalla società geografica italiana, il festival della letteratura di viaggio, giunto quest'anno alla sua settima edizione, si compone come negli scorsi anni di quattro giorni, dal 25 al 28 settembre, dedicati al racconto del mondo attraverso diverse forme di narrazione del viaggio, di luoghi e culture, dalla letteratura propriamente detta alla geografia, dalla fotografia al giornalismo, dal cinema al teatro e al disegno. La categoria centrale è il viaggio, inteso come accostamento e attraversamento dei mondi, remoti o prossimi, come scoperta e incontro, occasione di conoscenza, disposizione all'ascolto, educazione all'alterità. L'ottima riuscita delle precedenti edizioni ha fatto crescere in maniera esponenziale l'autorevolezza e quindi la partecipazione di istituzioni enti pubblici e privati, in qualità di enti patrocinanti, enti sostenitori, sponsor, media partner, collaboratori e ha conquistato l'estate romana, essendo realizzato con il sostegno di Roma Capitale in collaborazione con la CEA e SIAE. Si è allargato a macchia d'olio con iniziative su tutta la città ed oltre, giungendo fino a Formello, sulla via Francigena, alle porte di Roma, promotore dell'osteria diffusa. L'edizione 2014 del Festival si articola in oltre 40 eventi, tra incontri con autori di tutte le età, quest'anno un centinaio, mostre, premi, laboratori, proiezioni, spettacoli, visite guidate.